L'annunciata perturbazione è arrivata puntuale portando in Molise freddo e neve. Dopo il clima amite delle scorse settimane, le temperature sono crollate anche di 10 gradi. L'ondata di maltempo si è battuta già da ieri, domenica, portando freddo e nevicate fino a quote collinari intorno ai 400-500 metri. Pioggia e vento forte sulla costa. Oltre 10 centimetri di coltre bianca a Campobasso dopo la fitta nevicata della scorsa notte non si registrano criticità grazie anche al piano neve allestito dalla SEA con 67 mezzi entrati in funzione per garantire la percorribilità di tutte le strade cittadine e di collegamenti con le contrade. In azione anche 4 mezzi spargisale. Questa è la situazione in città, traffico scorrevole grazie anche alla decisione del sindaco Gravina di non aprire le scuole e consentire le elezioni in DAD, una decisione che ha evitato il congestionamento delle strade cittadine, soprattutto nelle ore di punta. La neve è stata ammucchiata ai bordi delle strade e pulite anche i marciapiedi. Non si segnalano particolari criticità dalle contrade. Oltre 30 centimetri di neve in montagna Campitello, Matese e Capracotta. Le strade sono comunque tutte percorribili grazie al lavoro incessante dei mezzi spartineve e spargisale. I sindaci di alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole oggi a causa del maltempo. Si tratta di Civitanova del Sannio, Macchiagodano e Ferrazzano. Il peggio sembra essere passato anche se nelle prossime ore sono ancora attese residui e deboli precipitazioni.